Ciao Paolo, volevo ringraziarti dell'invito che mi hai fatto a condividere con te e con i lettori del Golosario il pensiero del giorno. Sono a Padova e oggi con la mia famiglia abbiamo visto su Netflix un documentario su Miles Davis e ascoltando le note di Kind of Blues mi è venuto in mente che nel 2004, proprio a Padova, ci fu una grande mostra di Giuseppe Pino che io andai a incontrare, ebbi anche la fortuna di mangiare e bere insieme a lui e mi regalò questa bellissima foto di Miles Davis che ne ritrae un po' il suo personaggio, un po' il suo carattere. Ed è proprio di Miles Davis la frase che voglio dedicarvi. Tutto mi interessa, il mio futuro inizia quando al mattino vedo la luce del giorno e allora mi sento infinitamente grato.